Chievo di Marazzina con 13 gol, Givorno che torna alla vittoria contro il Palermo da un momento negativo per la formazione di Mazzone trascinata da un grande, grandissimo Cristiano Lucarelli che vola a quota 19 gol in campionato perché segna addirittura una tripletta il primo sul calcio di rigore procurato da Palladino, il secondo sul cross di David Balleri, anche qui in ritardo Barzagli oltre che Agliardi, baglia paurosamente nel secondo tempo ancora la difesa del Palermo, perde il pallone Barzagli la palla sbatte sul palo e Lucarelli con un facile tap-in fa 3-0, va ad abbracciare Carlo Mazzone, una bellissima scena nel finale il gol che serve solo per i tabellini, lo firma Giovanni Tedesco, sempre abile nell'area di rigore grande finta, grande gol, inutile però 3-1 per il Livorno